Cibulcova regola Suarez Da Tokyo, Cibulcova regola Suarez Dominica Cibulcova si aggiudica lincontro più atteso al Torai Pan Pacific Open. La quinta testa di serie impiega poco più di un'ora e venti per piegare Carla Suarez Navarro. Doppio 63, una pronta reazione dopo la prematura eliminazione all'US Open per mano di un'indemoniata Sloane Stephens. La Slovacca, finalista sul cemento a New Haven, può recitare un ruolo importante all'interno del torneo. In equilibrio il confronto tra Pavliukenkova e Bellis. Apertura di stampo americano, la stellina di San Francisco, 18 anni e un futuro luminoso, vince il primo parziale per sei giochi a quattro. La Pavliukenkova, KO all'1TA Flushin Madovs con la Mciale, ha la giusta reazione e ribalta la partita. 60 per Entorio, 64 al terzo. Sempre in preset il sigillo di Casacchina e Puig. La prima gioca con la Brengle. Consueto carattere, affronta difficoltà naturali su questa superficie, replica all'incedere a stelle e strisce, prevale di forza. La Puig soffre per una manciata di minuti, ma dall'alba del secondo parziale ha pieno controllo della contesa. Strapazza la qualificata Zievola al secondo turno. Da segnalare, infine, la W della Garcia con la Bielorussa Sasnovic. 64-63 il punteggio finale. Risultati. Puig, Ziev 26-61-61. Cibulkova, Suarez 63-63. Garcia, Sasnovic 64-63. Pavliukenkova, Bellis 46-60-64. Casacchina, Brengle 36-62-64.